bot conviene acquistarli o no come si calcola il rendimento io sono giuse di girolamo trainer di autonomia finanziaria e il mio obiettivo renderti semplici concetti complessi di finanza personale in questo video vedremo che cos'è un bot le tipologie di bot il rendimento il calcolo del rendimento la tassazione le commissione i vantaggi e gli svantaggi e poi vedremo tre alternative che dovresti considerare se stai pensando di acquistare un bot cosa sono i bot i bot sono buoni ordinari del tesoro sono titoli del debito pubblico italiano di breve termine infatti hanno scadenza 3 6 o 12 mesi massimo un anno quindi quindi cosa sono nella pratica sono delle obbligazioni e lo stato diventa debitore di chi acquista i bot e quindi tu in qualche modo se decidi di acquistare un bot acquisti il debito pubblico italiano ovviamente essendo titoli di breve durata come abbiamo visto 3 6 12 mesi rendimento sarà inferiore rispetto agli strumenti finanziari come per esempio i btp che hanno scadenze più lunghe e allo stesso tempo ok rendimenti più bassi ma avendo una scadenza più breve sono anche meno rischiosi oltre che sono emessi da uno stato e in generale le obbligazioni emesse da uno stato poi dipende dallo stato ma al momento stiamo parlando dello stato italiano dovrebbero essere meno rischiose rispetto alle obbligazioni emesse dalle società questo ovviamente in generale poi dobbiamo guardare il caso specifico perché anche tra gli stati c'è un mondo in mezzo i bot possono essere sottoscritti per un valore minimo di mille euro o multipli di mille ma cosa significa nella pratica valore nominale il valore nominale è un importo importantissimo perché da quell'importo vengono calcolati i tuoi rendimenti questo valore rimane invariato nel tempo e quindi tu all'inizio quando acquisti un bot sa il suo valore nominale e quindi il valore su cui verranno calcolati i rendimenti quindi in generale per le obbligazioni quindi il discorso vale anche per i btp se un'obbligazione ha un prezzo di emissione al 99 e il valore nominale è 100 anche se tu acquisti per 99 quell'obbligazione il rendimento verrà calcolato sul valore nominale quindi cento quindi per esempio facciamo un esempio pratico se il valore nominale 100 ovviamente sto semplificando al massimo e con cento mi viene poi tutto anche più facile quindi valore nominale 100 il 2 per cento e per esempio la cedola quindi sarà il 2 per cento di cento del valore nominale a prescindere dal prezzo che tu hai pagato nel bot però mi è una differenza sostanziale rispetto ai btp e capirai perché ti dico questo guardando tutto il video fino alla fine i bot rientrano nei titoli zero coupon il rendimento nella pratica non è basato su una cedola come per esempio nei btp l'esempio che t'ho fatto ma tra lo scarto del prezzo di emissione e del valore nominale infatti il titolo nel momento dell'emissione viene emesso a sconto cioè il prezzo che tu paghi per l'acquisto del bot è inferiore rispetto al valore nominale il differenziale tra il prezzo di emissione e il valore nominale sarà il tuo rendimento quindi per esempio il prezzo di emissione 90 il valore nominale 100 il differenziale 10 sarà il tuo rendimento i bot inoltre come i btp possono essere acquistati sia all'asta nel momento di prima emissione sia successivamente nel mercato secondario nella pratica quindi che cosa fai tu hai bisogno di una piattaforma che potrebbe essere per esempio la tua banca molte volte però mi è stato detto che quando le persone vanno in banca e chiedono di voler acquistare un botto un btp chi sta in banca ovviamente non sempre però qualcuno tende a non farli acquistare e farti acquistare altre cose a volte potrebbe essere conveniente altre volte non dipende dai casi sicuramente chi lavora in banca più delle volte non ci guadagna o ci guadagna pochissimo dal venderti un bot o un btp guadagna di più dal venderti altri strumenti finanziari quindi nella pratica tu hai bisogno di una piattaforma che per esempio vuoi farlo con la banca con la posta devi aprire il tuo conto titoli e attenzione però perché a volte un conto titoli ti fa pagare a prescindere dal fare acquisti o meno quindi paghi periodicamente un prezzo e poi a volte paghi anche qualcosa quando fa gli acquisti dipende un po dalla piattaforma che utilizzi quindi devi capire bene la piattaforma che vuoi utilizzare tu quali costi ti fa pagare bisogna comunque prendere in considerazione quando si vuole acquistare un btp le commissioni che ti fanno pagare intermediari finanziari la banca la piattaforma che utilizzerai per l'acquisto e allo stesso tempo la tassazione per capire effettivamente alla fine quanti soldi avrai in più la tassazione agevolata del 12,5 per cento rispetto al 26 per cento che hanno per esempio le normali azioni quali sono quindi i vantaggi e gli svantaggi dei bot sicuramente rispetto ad altri strumenti finanziari sono più sicuri quindi questo può essere un vantaggio tra gli svantaggi che non hanno chissà ovviamente quali rendimenti ma è sempre così maggiore il rischio maggiore rendimento in generale poi a volte le piattaforme magari possono dare rendimenti più alti in un periodo in cui vogliono acquisire clienti questo per esempio avviene con una piattaforma di cui ti parlerò più avanti e che in questo momento da rendimenti più alti quali sono quindi le alternative ai bot per esempio i conti deposito a un anno a un anno avendo la stessa scadenza prende in considerazione quale sarà il rendimento però attenzione ovviamente con il conto deposito la tassazione del 26 per cento mentre per il bot e del 12,5 per cento quindi per fare un confronto congruo bisogna considerare questa tassazione diversa un'altra alternativa al bot anche per esempio per differenziare i tuoi investimenti sai tanti soldi sono i piani di risparmio previsti dai broker che ti danno la possibilità stia di risparmiare risparmiare i tuoi soldi e darti un rendimento sui risparmi sia di investire decidi tu se utilizzare solamente i piani di risparmio oppure investire in altri strumenti finanziari come per esempio l'itf e le azioni e le obbligazioni tra tutti quelli in circolazione quello che ha tirato di più la mia attenzione è il piano di risparmio di freedom 24 io stessa lo sto utilizzando e nel momento in cui sto registrando il video non ho trovato rendimenti migliori per periodi di tre e sei mesi freedom 24 ti dà la possibilità di scegliere tra due opzioni con soldi sempre svincolabili li prendi in qualsiasi momento un piano di risparmio con rendimenti accreditati giornalmente del 3,44 per cento anno sai cosa mi piace di più di questo piano di risparmio con rendimenti accreditati giornalmente che ogni giorno tu vedi i tuoi interessi accreditati sul tuo conto quindi non lo vedi alla fine ogni giorno vedi aumentare a prescindere ovviamente dalla cifra che depositi i tuoi soldi e nello stesso momento puoi prelevare i tuoi soldi in qualsiasi momento ovviamente l'obiettivo deve essere quello di far rendere i tuoi soldi quindi non è che li devi prelevare perché puoi prelevarli perché altrimenti hai finito non ha senso investire però comunque nel caso ti servissero puoi farlo ok in qualsiasi momento poi vi è anche un piano di risparmio con rendimenti accreditati a 3 6 12 mesi fino al 5,68 per cento anno in euro cosa mi piace di più con questo piano di risparmio con rendimenti più alti accreditati a 3 6 12 mesi hai in questo modo rendimenti più alti e comunque non metti i tuoi soldi a una scadenza di cinque anni e gli rendimenti rimangono invariati per tutta la durata del periodo scelto quindi nel caso in cui poi vi saranno rendimenti più bassi per le condizioni economiche di mercato tu ti garantisci un determinato rendimento in questo modo e altra cosa fondamentale puoi comunque prelevare i tuoi soldi in qualsiasi momento e in tutto ciò quindi perché mi piace proprio questa piattaforma di freedom 24 oltre ovviamente i piani di risparmio con soldi sempre svincolabili per il servizio clienti in italiano cosa non da poco è sempre disponibile e che tu puoi contattare per email telefono e direttamente nella piattaforma questo per me è un aspetto importantissimo perché a volte le piattaforme poi non ti rispondono oppure ti rispondono magari in altre lingue però se vuoi un contatto anche al telefono per esempio in italiano freedom 24 ti dà questa possibilità ha inoltre sede in italia protezione del capitale dei clienti fino a 20 mila euro e sottosta a tutta la normativa europea inoltre se ti registri entro il 31 ottobre puoi ottenere fino a 20 azioni il regalo del valore fino a 800 dollari ciascuna in base al deposito effettuato utilizzando i codici promozionali welcome 50 welcome 20 e welcome 5 trovi il link per registrarti utilizzare i piani di risparmio di freedom 24 nel link in descrizione al video un'altra alternativa ancora ai botto sono per esempio i conti correnti che danno un rendimento a volte ci sono delle buone offerte però bisogna fare attenzione perché a volte scrivono 4 per cento annuo però è valido solamente per tre mesi quindi devi fare attenzione a questo e verificare anche in questo caso se ci può essere qualche offerta che fa al caso tuo cosa ne penso io dei bot sono buoni per quella parte di soldi di cui non hai bisogno per esempio per un anno per i bot un anno e vuoi comunque un rendimento bisogna però guardare all'effettivo guadagno quindi tolta la tassazione e poi bisognerebbe comunque prendere in considerazione le diverse alternative per capire quella che fa più al caso tuo e diversificare anche i tuoi investimenti prendendo in considerazione diverse opzioni una di queste opzioni che ho preso per esempio in considerazione anche io sono i piani di risparmio di freedom 24 trovi il link in descrizione al video questo video mi ha richiesto tanto lavoro ti sarei grata se mi lasci un ciao un grazie un segno di vita in un commento un punto un punto esclamativo una faccina un trattino cioè quello che vuoi a te non costa niente ma a me aiuta a far crescere il canale e a creare contenuti sempre migliori per te io ti mando un bacio ci vediamo al prossimo video ciao